La felicità non si trattiene. Dopo un periodo non certamente per la cantante, torna il sereno Il lutto del suo amato cagnolino e l'isolamento dopo la scoperta della positività al covid Elettra ha avuto diversi momenti di cedimento. Tutti ricorderanno quando è avvenuto lo sfogo in diretta Instagram durante la quale la rica ereditiera ha ammesso di aver pianto Ma oggi tutto è cambiato. Il lungo post di arriva puntuale. S è negativizzata e non poteva che informare tutti i fan di un cielo che sembra essere tornato di colpo sereno Ragazzi questo virus è un bastardo. Statene alla larga ve lo dico con il cuore Io mi sono sempre protetta al 100%. Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo addosso Io personalmente appena l'ho saputo ho pianto tutto il giorno E poi altri dettagli, ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia da soli Le ore e i giorni non passano mai, vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo Ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi, non è bello e non è uno scherzo, potessi tornare indietro Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo, ma adesso inutile piangere sul latte di soia versato, proteggetevi E adesso la cantante può davvero festeggiare questa piccola grande vittoria In che modo? Ovviamente lanciandosi in uno show imperdibile, ovvero in un balletto in bikini sulle note di come porti i capelli bella bionda, brano di Cochi e Renato Visto che non voglio mancare di rispetto e ni che non voglio far vedere la mia patana, anche se il mio c asteriscolo lo vedete ogni giorno, questo è quello che mi è venuto in mente per continuare a ballare E si vede tutto Continua a leggere dopo le foto e il post Resta alta la guardia ma con prudenza si potranno riprendere riti più normali La cantante adesso potrà tornare a dedicarsi anche all'isola dei famosi che per questa edizione la vede nelle vesti di opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi Insomma, un balletto in puro stile Lamborghini era quasi d'obbligo, e finalmente sul viso della cantante sarà sempre più facile scorgere un sorriso Pubblicato il 22 marzo 2021 alle ore 11, 25. Ultima modifica il 22 marzo 2021 alle ore 11, 25